In un altro video avevo indicato come usare i pulsantini Assign Switch 1 e 2 per modificare un parametro da menu. E' praticamente lo stesso procedimento mostrato per il pedale dell'ESLI. Seleziono un parametro sul display, premo CTRL Assign, aziono il pedale o il pulsantino ed è tutto. Magari fra poco vi mostro un altro esempio come ripasso. Poi però vedremo una tecnica più raffinata. Attivare o disattivare singoli elementi di una parte premendo un pulsante Assign. Andiamo sul pannello. Qui abbiamo varie parti, ma prima di tutto nei settaggi della Performance dovremmo controllare se i due pulsanti Assign sono impostati come momentanei o a scatto. A noi interessa la seconda opzione. Eccola qua. Ledge. Ok. Adesso concentriamoci su questo piano elettrico. Voglio fare in modo che premendo lo Switch 1 venga aumentato il chorus. Intanto lo mettiamo in solo. Così sentiamo solo questa parte. Apriamo gli effetti della parte. Effetto accendiamo. Chorus. Mettiamo questo qui. Ok. Ora tocchiamo il parametro relativo alla profondità e si è acceso contro l'assegno e lo impostiamo col valore minimo che vogliamo noi. Praticamente zero. Ora con la casella ancora selezionata clicchiamo contro l'assegno e poi segno switch uno. Ok. Ora da qui noi possiamo regolare il valore massimo. Quindi. Perfetto. Proviamo. Allo stesso modo potremmo ad esempio assegnare un aumento del riverbero, del volume, del filtro, insomma di quasi ogni parametro relativo al suono. Ma adesso passiamo all'applicazione di cui parlavo all'inizio, cioè usare un pulsante Assign switch per attivare o disattivare singoli elementi di una parte. Qui c'è un organo con la percussione. La mettiamo in solo per escludere le altre parti. Andiamo a guardare. Ecco qua. Usa solo quattro elementi. Tre per i drawers e uno per la percussione che quindi resta sempre attiva. Ma osserviamo la colonna dei controlli XA. Questa qui. Per ogni elemento è selezionato normal. Ma noi adesso per la percussione selezioniamo un valore diverso. Per esempio Assign switch 2 on. In questo modo la percussione verrà riprodotta solo se Assign switch 2 è on, cioè acceso. Proviamo. Ed è anche possibile fare l'inverso, cioè Assign switch off. In questo caso la percussione suonerebbe se ambe due gli switch sono spenti e resterebbe invece muta se è acceso almeno uno dei due. Ora vediamo un altro esempio. In quest'altra parte c'è un suono di sax. Mettiamolo in solo per lavorare in santa pace e vediamo come funziona. E' attivo soltanto l'elemento 1. Lo duplichiamo sul 2 premendo shift edit. Da 1 a 2. Copia. Eccolo lì. Ora scegliamo un diverso timbro di sax per il secondo. Il primo era un alto. Qua metteremo un tenore, un baritono. Ok. Ed eccoci al dunque. Vogliamo fare in modo che il primo elemento suoni quando gli Assign switch sono spenti e il secondo invece quando lo switch 1 è acceso. Cambiando quindi il sax con un semplice click. Anzi addirittura sul secondo sax io scenderei di un'ottava. Eccolo qui. Proviamoli singolarmente. Perfetto. Come si fa? Rivediamo la mappa degli elementi. Sono tutti e due normal. In modo normal l'elemento suona sempre. Invece impostiamo il primo con il segno switch off. E quindi suonerà quando gli switch sono in off. E il secondo è in assegno 1 on. E quindi suonerà solo quando il segno 1 è acceso. Proviamo. Allo stesso modo potremmo impostare due tipi di fisarmonica. Oppure accendere un distorsore di una chitarra. Scegliere due velocità per un vibrato di un organo. E ovviamente parliamo di impostazioni scelte per ogni parte di ogni performance. Quindi grande versatilità. In sostanza mod X come montage offre diverse funzioni che gli consentono di adattarla alle nostre esigenze. Mi rendo conto che spesso la programmazione possa apparire piuttosto ingarbugliata. Ma se ci si appassiona poi tutto diventerà più facile e divertente. Ciao a tutti.